ho da dirvi un po di cose e rispondere a qualche vostra domanda la prima è evidente si per scelta non sono scommessa malattia obbligo vario o tagliati i capelli ci tengo per trasparenza e correttezza dirvelo tramite un video perché insomma 1300 persone hanno chiacciato da su iscriviti e quindi ecco dall'icona che c'era prima che vedete qua sulla destra è diventata così come a sinistra il banner anche leggermente si è modificato voglio però dirvi che per questa estate vi saranno ancora tanti video soprattutto di domenica fissati già programmati e già pre registrati su youtube in cui ho ancora i capelli lunghi ma d'altronde ciò che conta non è la mia presenza fisica ma il mio modo di parlare di recensire e di sfogliare il prodotto voglio comunque approfittare di questo breve video per rispondere a qualche vostra domanda che effettivamente comincia a farsi insistente e che è giusto così che io risponda il primo macro argomento che voglio affrontare è la videocollezione zio n quando uscirà la collezione dopo lino zio n ma non avevi promesso che sarebbe uscita in estate sì lei è stata appena iniziata non preoccupatevi io spererei entro metà agosto di farcela devo dirvi però che prima di realizzare la videocollezione vorrei recuperare ancora quegli ultimi numeri che mi mancano che nel canale vedrete recensire di qui a metà agosto circa ma mi mancano ancora qualche numero almeno ad oggi 2 luglio 2021 quindi nel momento in cui avrò completato tutta la collezione dal 600 al 3423 uscito due giorni fa allora mi sentirò più in dovere anche preciso ordinato a fare un bel video collezione legato a topolino il secondo macro argomento che raccoglie tante vostre domande è legato agli acquisti in molti mi dicono o mi chiedono zio n perché non compri grandi classici perché non compri i classici o perché non acquisti topo noir o attraverso i secoli quel fumetto raccantonato che sta uscendo o perché non compro questo quest'altro io non posso permettermi di comprare tutto e lo voglio dire chiaramente io utilizzo youtube lo ripeto per condividere la mia passione con voi in base a quello che comprerei a priori non è che youtube e avendo il canale mi viene voglia di comprare di più perché i soldi sono sempre gli stessi se la pagina di comics anche se è un qualcosa a cui non auspico perché non mi interessa nel mio lavoro mi inviasse un email con su scritto ti inviamo tutti i fumetti dei dicole fumetteria e tu le recensisci lo farei di ogni fumetto ogni giorno io recensirei ovviamente tempo permettendo ma a quel punto sarebbe un impegno dato che non è così io non mi sento in dovere ovviamente neanche in interesse a comprare tutto quindi io acquisterò le gm acquisterò megalmanacco acquisterò pa per sera il topolino ovviamente perché le avrei comprati a prescindere ma per esempio club supereroi non lo comprerò perché non mi interessa non è una testata che io comprerei all'infuori anche se non avessi il canale youtube quindi il discorso che faccio sempre e non fatevi influenzare io recensisco ciò che per me interessa ma non è detto che io ecco compro i prodotti migliori per esempio i grandi classici non li acquisto però ve li consiglio a me però non interessano visto che punto ad avere i topolino originali soprattutto il terzo grande marco argomento di questo video è il mio futuro io non so quanto riuscirò a mantenere questa cadenza di 3 4 video settimanali che sembrano semplici ma in primis c'è una lettura del fumetto poi la recensione poi la montatura del video il caricamento la copertina insomma una serie di piccole cose quella che mi fanno perdere dalle tre le quattro ore per ogni fumetto per ogni recensione conseguentemente visto che io realizzo anche dei tagli in ogni video quindi c'è una parte di editing non so per quanto riuscirò a mantenere fissa questa mia cronologia questa mia sequenza di video nel momento in cui comincerò a lavorare visto che io youtube lo vedo come un passatempo è normale che youtube andrà in terzo quarto quinto piano e quindi probabilmente i video saranno molto più semplici più di compagnia cui magari fanno tutti mi viene in mente il grande giovanni dioguardi nuvole di anakin è un signore che io stimo e tantissimo rispetto che fa vedere i fumetti ne parla così davanti alla videocamera non vorrei arrivare a quello e non perché non mi piaccia il genere di video anzi io lo stimo molto proprio quello che fa mi piace molto recensire sempre col mio modo col fumetto davanti a voi ma ecco in mancanza di tempo lo voglio già dire non abbiate troppe aspettative su di me perché io auspico a lavorare come insegnante che già sto lavorando qualcosa ma a tempo pieno il momento in cui sarò a tempo pieno io non potrò più permettermi questo tempo di recensire a destra e a manca ogni fumetto ve lo voglio dire così per mettere vi un pochino in chiaro le cose detto ciò vi auguro buon estate ma non perché questo sia l'ultimo video estivo assolutamente sarei contraddittorio usciranno video a cadenza quasi regolare di cui fu a settembre poi chissà chi vivrà vedrà e vedremo effettivamente come andrà a finire in ogni caso io anche se non dovessi fare più video continuerei a comprare prodotti disney così come facevo due anni fa prima di creare questo canale quasi per divertimento per cui ecco ci tengo a essere chiaro schietto sincero spontaneo soprattutto e spero di condividere con voi quello che davvero a me piace del fumetto ovvero la lettura per oggi è tutto davvero alla prossima e spero che non vi abbia scioccato ma d'altronde la voce questa il tono anche le recensioni rimarranno non cambia nulla è solo che ecco la faccia un pochino più pulita forse ciao ragazzi